Allora serpente, sei pronto a colpire ping pong, andare a ping pong a fare un gioco? Sì, siamo pronti per andare a giocare ping pong perché deve andare sinistra e destra. Ok, perfettissimo. Ciao ragazzi, ciao serpente, piacere vederti cricchetto, allora noi stiamo andando a giocare ping pong. Andiamo? Andiamo alla corsa. Ok, andiamo. Sei pronto, serpente, a colpire? Certo, sono pronto. Ok, andiamo. Facciamo! Ping! 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 Più guardave del mondo! Ping! 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 Ascolta sta voltoia! Guarda là sopra! Shhh! Hop! Shhh! Qua! Ah! Hai visto vantaglio? Come è fatta a rivolgere verso l'altra! Toccate il tetto! Soltami qui nel tetto! Ok? Ci va da volo! Sei pronta? Eh si sono pronta! Ping! 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 Oppa! Ping! Oh! 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 Si è fatto male cricchetto! Eh si! Mi sono fatto male! Beh! Vi facciamo da... Vi facciamo da volo! Ok! Soltami qui! Mmm! Ma come puoi darselo? Ehi! Ce l'hai in tasca della macchina? Oh! Scusami! Mi sono perso! E tu chi? E tu qui il tetto? Oh! Oh! Ah! Ok! Pronto! Ep Daddoria! Iены! I��! Aia! Che male degli occhi! Iumen! Im! Iены! I lados! Louloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulou ah davvero li portano li portano da li portano hamburger mess chicken in arrivo è tutta salsi è tutto sandwich oh ti piace ti piace avvolto io e mi piace moltissimo sapete è una cosa da fare davvero è ingegnale grazie 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 grazie